Ciao, buongiorno. Buongiorno. Facci l'introduzione. Allora, oggi partiamo per il Gran Sasso, sono 2000 metri di altezza e niente, andiamo sul Gran Sasso, campo imperatore, sciamo e poi si torna. Non male, guarda, davvero. Pronto? All'inizio, sei pronto? Sei carico? Carissimo. Sei carissimo? Cari, cari. Però facciamo un switch alla GoPro. In questo momento. Cari, cari, cari. Cari, 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 cari. Cari, cari, cari. Cari, cari, cari. Cari, cari. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti